Ho capito che Dio ci ha salvati, ma noi non credo che siamo così bravi, un po' di peccati li facciamo anche noi, anche dopo che Dio ci ha salvati e quindi quello che dobbiamo capire bene, penso che sia questa la domanda nel senso, il senso dell'indulgenza, dobbiamo fare una differenza tra colpa e pena, due cose importanti, quando noi ci confessiamo abbiamo la soluzione, riceviamo la soluzione della colpa, ma rimane la pena, questa pena noi pensiamo che ci sia un bisogno di purificare il nostro sguardo quando saremo in cielo e che per avere questo faccia a faccia con Dio alcuni avranno bisogno di essere purificato perché abbiamo ogni nostro atto, e lo vediamo anche concretamente in tutto quello che facciamo, ogni nostro atto ha delle conseguenze che possono essere positive o negative, ecco quindi quell'atto che noi abbiamo fatto, la colpa viene in un certo senso cancellato, non dal perdono di Dio, ma la conseguenza è collegata allora alla pena, la mia anima avrà bisogno di essere purificata prima di faccia a faccia con Dio. Allora l'indulgenza è questa misericordia supplementare che viene data e in parte viene cancellata quindi questa pena, no? E quindi come viene, ci sono anche come dire dei requisiti per ottenere l'indulgenza e questi sono sempre gli stessi che sono intanto ovviamente la confessione per il problema della colpa, poi la comunione eucaristica e poi la preghiera secondo l'intenzione del Santo Padre, sono le tre cose principali, perché? Perché la confessione ti obbliga a distaccarti da questo tuo peccato, a renderti conto con umiltà di aver sbagliato. La comunione nella celebrazione dell'eucaristia ti permette di capire la dimensione ecclesiale dell'indulgenza, tu torni ad essere parte di questa comunione che viviamo insieme, che viene celebrata e poi l'intenzione al Papa è anche lì, crea questo fatto di il Papa è quello che è quello che in un certo senso simbolicamente e anche concretamente è simbolo dell'unità della Chiesa, no? E quindi preghi per questo. Allora è come rientrare, no? nella famiglia in un certo senso. Quindi informati perché delle indulgenze ce ne sono tante. A Roma, per esempio, basta varcare alcune basiliche, basta pregare in certi posti, tu vedrai dappertutto. Non esitare per te e anche per i tuoi difunti.